il significato della parola urbex è esplorazione urbana consiste nell'avventurarsi in strutture e rovine abbandonate o anche sistemi urbani di drenaggio delle acque di tunnel di servizio di passaggi sotterranei e simili non credo di aver capito prova a dirmelo con altre parole grazie grazie quello è un tram là giù ragazzi qui è un carrello allevatore e questa è una moto d'acqua ma non è facile ragazzi parlo piano speriamo che non ci sia nessuno ok sono pieno di spine dappertutto nelle scarpe addosso ok andiamo avanti e come dico sempre andiamo avanti abbandonato lasciato in abbandono deserto disabitato e non è non è non è Grazie a tutti. 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 Abbandonato, lasciato in abbandono, deserto, disabitato. Eccolo qui, ragazzi. Guardate che roba. Cioè, questo è un pezzo da museo e da collezione. In base al sito Moto Guzzi. È nata a Genova il 15 marzo 1921. È la più antica casa costruttrice di motociclette in Europa e il suo motore è inconfondibile. È Moto Guzzi. Dappertutto. Non so più dove infilare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un grazie ad Andrea il pilota e noi ci vediamo alla prossima esplorazione. Ragazzi e non.